Salve a tutti, sono il dottor De Mari, farmacista esperto in fitoterapia. Con questo caldo siamo tutti alla ricerca di bevande dissetanti, ma allontanandoci da tutte quelle commerciali. Ad esempio io ricordo quando andavo al bar con mio padre, ero piccolino e beveva l'acqua tonica. L'ho assaggiata da piccolino e mi risultava molto amara e quindi non mi piaceva, ma andando a rivalutarla adesso vi dico che alla fine è acqua e zucchero e così come tutte le bevande queste commerciali. Allora voglio una bevanda che sia sana, salutare e magari antinfiammatoria, mi doni molti minerali insomma per farmi sentire bene e sia realmente dissetante, quindi non mi mette sete dopo un po' di tempo. Insomma ho trovato una ricetta che veniva consigliata dai medici tanto tempo fa e questo era il decotto di orzo, conosciuto anche come l'acqua di orzo, ma da non confondere come l'orsata, che niente a che fare con l'orzo ma si tratta di una bevanda bianca tipo il latte di mandorle. Detto questo l'orzo ha tante proprietà e benefici, ma fate attenzione se siete celiaci perché l'orzo è un cereale che contiene una piccolissima quota di glutine. È un cereale che viene reinserito per primo insieme all'avena dopo un percorso di esclusione del glutine, invece per le persone con sensibilità al glutine. Ma veniamo a noi, l'orzo integrale. Come viene preparata l'acqua di orzo? Beh, si prende un litro di acqua e 70 grammi di cereale di orzo, preferibilmente integrale. Quindi adesso dopo aver sciacquato, come tutti i cereali integrali vanno sciacquati, quindi dopo aver sciacquato bene i 70 grammi di orzo, si mettono in questo litro di acqua e si portano ad ebollizione mantenendo l'ebollizione per all'incirca un'ora. dopodiché si filtra e quello che rimane è quest'acqua, un'acqua che ha delle proprietà interessanti perché ha raccolto le fibre e tutti i minerali e anche delle vitamine idrosolubili importanti contenute nell'orzo integrale. A questo punto questa bottiglia da un litro di acqua, tu la puoi, del litro di acqua ed orzo, la puoi conservare in frigorifero per berla fresca. Insomma si è visto che bere un bicchiere o due di acqua di orzo al giorno arreca tanti benefici alla nostra salute. Innanzitutto è utile per tutte le persone che hanno una leggera infezione urinaria, quindi quel leggero bruciore nella minzione, perché questa ha un'azione diuretica e ha un'azione importante antinfiammatoria. Infatti si pensa che questa riesca a cacciare proprio i batteri responsabili delle cistiti. Ovviamente non sto parlando della tintura madre di uva ursina, di pilosella, insomma di mirtillo rosso, che hanno invece un'azione importante per la cistite, però può aiutare per chi ha, diciamo, una debolezza a livello della vescica, di reni e insomma ha dei piccoli e leggeri bruciori. Poi ha un effetto dimagrante perché grazie alle fibre questo ti dà un senso di sazietà e quindi riduce quella fame fuori dai pasti, ti aiuta a non mangiare al di fuori dei pasti, riduce l'assorbimento dei grassi grazie sempre alle fibre a livello intestinale e quindi va ad abbassare leggermente i livelli di colesterolo, quindi se hai dei livelli di colesterolo borderline magari bevi due bicchieri al giorno di acqua e orzo, acqua di orzo fredda da frigorifero. Poi riduce le tossine e andando a eliminare le tossine a livello gastrointestinale, a livello linfatico, ho un miglioramento di lucentezza a livello della pelle e poi abbiamo visto che l'accumulo di tossine mi può portare a un invecchiamento della pelle precoce, soprattutto quando io mi vado ad esporre per troppo tempo al sole. E poi è una bevanda dissetante perché ha tanti minerali e quindi mi sostiene, sostiene l'organismo proprio da queste problematiche del caldo. Oltre ai minerali, quindi le fibre, con dei benefici a livello gastrointestinale, anche a livello del transito intestinale e alcune vitamine importanti del gruppo B che mi danno un po' più di energia. Poi l'orzo contiene molto magnesio, molto ferro e molto calcio e quindi tutto questo va a sostenere l'organismo, soprattutto in questo periodo di questo caldo torrito e afoso. Io insomma vi ringrazio per seguire i miei consigli, condividete il video con i vostri amici, mettete mi piace e iscrivetevi al canale YouTube. Ciao!